Intanto l'ottimo lavoro del Consiglio, dei gruppi consigliari, di tutti i gruppi che hanno continuato in questo lavoro utile e necessario intanto nei confronti dell'opinione pubblica che chiede sempre di più un'azione di rigore, qualche aspetto anche dal punto di vista morale ed etico nei momenti di difficoltà economica, soprattutto le famiglie, dai segnali che i primi a dover risparmiare sono proprio la politica quelli che vengono comunemente definiti palazzi della politica, però non voglio usare demagogia, però tutto quello che bisogna fare per dare un segnale forte all'esterno, dimostrare che la Campania è tra le regioni, forse oggi è la regione che su questi aspetti ha lavorato di più quindi su tutti i temi, autoblue, consulenze, tutti quelli che sono i benefit del sistema politico, abbiamo dato un segnale immediato lo sta facendo il paese, lo si sta facendo anche in parte con la spending review, per tutte quelle iniziative che poi incidono realmente sui costi della politica, è evidente che poi alcune iniziative, manovre del governo non vanno in questa direzione, vanno nella direzione dei tagli lineari, lì la preoccupazione è diversa perché non è un problema di costi degli apparati, ma è un taglio lineare a sanità e trasporti, quindi incide sui cittadini quindi una cosa sono le iniziative utili di risparmio della spesa, di qualificare la spesa e di togliere tutte le spese inutili e cosa diversa invece può colpire nel welfare, colpire nella sanità e trasporti quindi questa è una bella pagina di un consiglio regionale che è assolutamente in linea con quelle che sono le migliori pratiche nazionali è una legge che senza dubbio riporta nell'alveo della normalità, della serietà, della sobrietà e della responsabilità chi svolge un ruolo istituzionale credo senza esercizi di retorica che ci sia stato uno scatto di orgoglio e di dignità da parte dell'intero consiglio regionale nel diminuire cori d'ombra, aree di privilegio e agi che erano divenuti insultanti ed intollerabili stamattina Campania Zero, ancora un contenimento di risorse, ancora un taglio di benefit nella consapevolezza che nel chiedere grandi sacrifici ai cittadini bisogna dare il buon esempio è quello che il consiglio regionale della Campania sta cercando di fare da due anni Siamo la prima regione de-autobluizzata d'Italia, abbiamo abolito anche tutte le consulenze nessuno più in Campania potrà dare una consulenza, abbiamo abolito i rimborsi telefonici quindi zero consulenze, zero rimborsi telefonici, zero autoblu una legge che premia la meritocrazia e la trasparenza non è più possibile nominare in regione parenti, consiglieri comunali, assessori gente che ha carica politica, magari che non ha merito, che non ha curriculum abbiamo cercato di dare un segnale forte ai cittadini della regione Campania per fare sentire orgogliosi di essere cittadini di questa regione